cari bambini e bambine voi già mi conoscete vero come io conosco tutti voi volevo dirvi una cosa bella e preziosa è vero che un momento particolare che tutto vi sembra strano ma state tranquilli che tornerà tutto normale e torneremo tutti insieme a giocare e scusate il collegamento ma qui al polo nord per le antenne fa molto freddo ecco è tornato il collegamento una cosa è certa bimbi miei io vengo comunque a trovarvi la notte di natale babbo natale non vi lascia soli ed anche se non potete vedermi vi assicuro che io sarò lì presente il vostro regalo non mancherà state tranquilli fidatevi se fate la nanna oppure siete svegli io sarò lì ma se vi dicono di fare la nanna fatelo fate i bravi al vostro risveglio troverete tanti regali è vero che non ci si può spostare ma bambino natale si fa invisibile e vi viene a trovare ripeto anche se non mi vedrete io sarò lì il vostro regalo non mancherà state tranquilli bambini state tranquilli fate i bravi fate i bravi ci vediamo presto ciao 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 Grazie a tutti.